Perché non te la faccio più, dottor? Calmi e mi esponga bene il suo caso. Cioè, che devo dire? Io vivo nell'angoscia costante, proprio l'angoscia. Per capire la sua patologia, lei mi deve fare un esempio, mi faccio un bel esempio. Un esempio? Ecco, allora io quando ho un problema vengo assalito dai dubbi. Oh no. A volte sì, a volte no. Forse. Cioè, è un dubbio sì e è un dubbio no. O no. Cioè, non è sempre. Puoi averlo e non puoi averlo. Non sempre. Però può essere. Ma non è preciso. Cioè, il dubbio sì. Se è un dubbio, perché poi uno lo sa. Boh, che è... Ehi, a tutti.